Mediterranea è una piattaforma di concretezza, di aiuto concreto per i migranti a mare. Andiamo a fare monitoraggio, mettiamo in mare la prima nave italiana perché non si può girarsi dall'altra parte. Molti di noi hanno detto che in realtà stiamo salvando noi stessi l'orgoglio, l'onore di questo paese che negli ultimi mesi, negli ultimi anni invece ha perso questo senso di umanità voltandosi rispetto a quanto accade nei centri di detenzione in Libia. Andiamo incontro ai migranti per ricordarci che siamo umani e che il nostro futuro risiede anche nella capacità di accogliere e di gestire il fenomeno migratorio.